Risse, proteste, pericoli, non c'è pace per gli agenti della Polizia Penitenziaria di Poggio Reale, quotidianamente alle prese con la carenza cronica di organico e i pericoli di un mestiere ad alto rischio. Ieri, l'ennesima giornata da inferno tra le sbarre tra risse, incendi e proteste, il segretario generale Osap Beneduci si appella al ministro Bonafede perché proprio per Poggio Reale vengano adottate misure ad oras che riescano ad evitare i quotidiani pericoli vissuti da tanti agenti. Una prima criticità si è registrata nel primissimo pomeriggio nel padiglione Avellino dove circa 40 detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle celle per protestare contro la modifica predisposta per l'orario dei colloqui. Il personale è stato costretto a non smontare dal servizio e solo dopo una lunga trattativa con il facente funzioni comandante del reparto i detenuti hanno desistito dalla protesta. Sempre nel reparto inserata un detenuto ha dato fuoco a un materasso mentre poco prima c'è stata una rissa nel reparto Milano. A raccontare tutto il segretario generale dell'Osap Leo Beneduci. Oltre che per motivi di ordine e sicurezza le condizioni di lavoro del personale di Poggio Reale sono più che critiche e oltre agli evidenti rischi per l'incolumità fisica degli addetti al corpo la situazione è ancora più precaria per la carenza cronica di organico che soprattutto in estate rende impossibile lavorare. Ci appelliamo al ministro perché vengano allontanati i detenuti più facinorosi, solo così potrà migliorare la situazione.